Ciao, nel video di oggi ci occupiamo delle TPO, ovvero delle Third Part Ownership, che è un argomento che mi è stato sollecitato da un mio allievo Giuseppe. In sostanza le Third Part Ownership sono nient'altro che quello che comunemente viene chiamato il fondo di investimento che ha come oggetto la proprietà dei cartellini dei diritti sportivi dei calciatori. Possono essere fondi veri e propri oppure terze parti come persone fisiche, cioè società di agenti, gli stessi genitori dei calciatori che spesso detengono percentuali sul cartellino dei calciatori. Sono pratiche che non possono più essere diffuse nell'Unione Europea, sono state vietate dal Parlamento Europeo per vari principi, uno tra tutto si configurava una vecchia situazione relativa a delle... delle risonanze che provengono dal passato, cioè dalla tratta degli schiavi, ma ancora di più perché erano terreno fertile per eventuale riciclaggio. Mentre invece è una pratica molto diffusa lì dove i cartellini dei calciatori sono polverizzati, sono detenuti in percentuali diverse da diversi soggetti, spesso dal calciatore stesso o dalla famiglia, parzialmente dal club e parzialmente da altri soggetti. Quindi quando un club europeo va a confrontarsi nel mercato sudamericano spesso ha a che fare con diversi attori per poi poter rilevare il cartellino. Nella pratica questa cosa leggermente viene aggirata e delusa anche in Europa perché con accordi paracontrattuali è previsto che un soggetto possa detenere una percentuale sulla futura rivendita di un calciatore. Questa futura rivendita viene corrisposta però non in forma di vera e propria percentuale di proprietà sul cartellino del calciatore ma come commissione dilazionata del tempo. Quindi si è aggirato questo ostacolo. Nella domanda che mi faceva Giuseppe mi parlava però di un caso che non rientra o comunque elude questo principio che è il caso di Neymar. Di fatti Neymar è vero che se ci pensiamo è stato acquisito da un fondo catariota che essendo poi lo stesso proprietario del club parigino per cui Milita lo ha poi girato al club parigino ma è vero anche che non è mai stato formalmente detenuto come cartellino da una terza parte. Ovvero cosa è venuto? Neymar aveva sulla sua testa pendente una clausola rescissoria risolutiva con il Barcellona di 220 milioni di euro. Quindi la clausola rescissoria viene esercitata formalmente sostanzialmente dal calciatore stesso con il club di appartenenza ovvero formalmente è il calciatore che in virtù del versamento della somma della clausola si libera prescindere il contratto e può essere considerato svincolato quindi poi accordarsi eventualmente con un club nuovo. E' quello che è successo nel caso Neymar ovvero Neymar non ha intrattenuto prima di firmare il contratto con il Paris Saint Germain rapporti formali con il Paris Saint Germain. Neymar invece ha avuto un finanziamento cioè non un finanziamento ha avuto anche un'iniezione di denaro da un fondo estero che ha pagato direttamente il calciatore anzi rispetto ai 220 milioni della clausola e gli ha dato di più a titolo di commissione per il servizio per poter fare questa cosa. Neymar ha ricevuto mi sembra 250 milioni, 30 se li ha trattenuti, 220 li ha girati a Baccellona per poi diventare un calciatore formalmente svincolato. A quel punto il calciatore svincolato si è accordato col Paris Saint Germain che evidentemente aveva un accordo con il calciatore già preimpostato. Però formalmente vediamo come la pratica delle DPO in questo caso di specie è stata formalmente elusa grazie a questo escamotage. Tutte le clausole risolutive e rescissorie funzionano così. È un rapporto bilaterale in cui non entra mai il club di destinazione ma entra invece sempre il calciatore con il club di appartenenza. Formalmente è il calciatore che versa al club di appartenenza l'ammontare della clausola risolutiva. In tanti casi il calciatore in virtù del fatto che ha un accordo già preimpostato con il club di destinazione rinuncia anche a una somma di questa clausola rescissoria che di solito in percentuale va a finire a lui. È il stato il caso di Pjanic piuttosto che il caso di Higuain. Avevano tutti e due Pjanic una clausola di 35 milioni, Higuain una clausola di 100, hanno rinunciato rispettivamente a 7-8 milioni ciascuno per potersi liberare a gratis diciamo della clausola perché poi avrebbero ritrovato quei soldi della clausola rescissoria spalmati nel contratto ricco che avrebbero avuto con il club di appartenenza. Questo era per spiegare un dibattito che c'è stato con un allievo che sicuramente sarebbe stata una domanda di molti di voi e quindi era bene chiarificare. Ci vediamo dentro il corso, se avete commenti, domande e qualsiasi genere di dubbio sull'argomento o più in generale sul corso me li fate in commento qui sotto nei video e ci vediamo dentro la piattaforma. Ciao!